Ingegnere, si è chiusa la stagione purtroppo in gara 5 a Milano, oggi l'incontro con i tifosi è la conferma di Maffezoli, si parte da Maffezoli per costruire la Sidi Cassa del prossimo anno? Su Maffezoli stiamo lavorando. Anche se lui ci ha detto che ci sono buone prospettive, praticamente è già tutto definito quasi? Ci stiamo lavorando. Un bilancio di questa stagione della Sidi Cassa per lui? Non ce l'abbiamo fatto. A proposito di obiettivi, è deluso per quello che non è arrivato in questa stagione tra campionato e Champions League? Deluso, diciamo l'impegno ce l'abbiamo messo tutto quanto, avrebbe fatto piacere se ci fosse stato anche qualche risultato ovviamente. Nei play-off, ma anche nella parte finale della stagione, con l'arrivo di Maffezoli si è ricreato il giusto connubio, la giusta unione tra la squadra e anche il pubblico. Potrebbe essere questo uno dei punti da cui ripartire per la prossima stagione? È stato capace di dare identità. Se avesse avuto magari più tempo i risultati avrebbero potuto essere diversi. È importantissimo ovviamente che tutti quanti i componenti, pubblico, squadra, società, facciano la loro parte. Per il prossimo anno che Sidi Cassa vedremo? Spero la migliore possibile. Quale obiettivo? Quello di fare il massimo che si può fare. Finalmente forse alzare anche un trofeo, lo possiamo dire? Non lo diciamo per scaramanzia, ma speriamo di poter fare il massimo che si possa fare. Tutto quanto.